Questo video è molto impegnativo, quindi ho usato un approccio un po' diverso Useremo il modulo SIM808 per fare una chiamata HTTP Questo modulo fa solo chiamate HTTP Quindi con l'HTTPS potreste avere dei problemi, quindi non funziona Invece che scrivere il codice da zero come faccio di solito Anche perché verrebbe un video della durata di due ore Ho preferito far prima il lavoro e commentare quello che ho fatto Quindi visto che è un video di livello alto per utenti avanzati Vi suggerisco di scaricarvi i sorgenti dalle depositori di GitHub E analizzarli magari mentre li commento Per chi invece è poco esperto può prendere i sorgenti pronti all'uso Troverete una comoda funzione per inviare i comandi AT al vostro modem Che funziona con una buona sicurezza Quindi potete usarlo direttamente per fare delle chiamate HTTP Ho provato altri sketch che esistevano dati insieme a questo modulo Purtroppo non funzionavano molto bene Per questo ho sviluppato questo codice di esempio Iniziamo subito Riprendiamo il modulo SIM808 che abbiamo visto la scorsa volta Qui vedete lo schema di collegamento che abbiamo già trattato E vedete anche già assemblato qua su Breborn Collegato con l'alimentatore esterno come abbiamo consigliato Abbiamo il power key collegato direttamente a GRAN così che il modulo quando viene alimentato Parte in automatico Oggi proveremo a fare una chiamata HTTP Quindi chiameremo un indirizzo Vi faccio vedere già il risultato finale Resetto l'Arduino Adesso vedrete qua una sequenza di comandi che vengono dati in automatico Che servono per andare a fare la chiamata internet Quindi chiamiamo una pagina HTTP La sequenza di chiamate è terminata Questo qui è il risultato dato dalla pagina Che dà un JSON come risposta La pagina chiamata è una pagina del mio sito che vedete qui E qua vedete tutto quello che serve I comandi che dobbiamo dare Adesso poi li rivediamo Quindi do una T per vedere se l'oggetto risponde Poi vado a impostare la PN In questo caso è TM Things Mobile Poi vado a vedere se la portante è attiva Altrimenti attivo la connessione Dico che voglio procedere con una sessione HTTP Creo un identificativo di questa sessione Dando questo CID Dico come parametro HTTP Che voglio seguire eventuali redirection Che vengono date dal server Specifico l'URL da seguire Con sempre HTTP para Dopodiché dico ok Fai la chiamata Quindi HTTP action uguale 1 Devo attendere la risposta che sia 200 Quando la risposta è arrivata Posso leggerla Usando HTTP read Che qua non vedete viene chiamata dal codice E alla fine faccio HTTP term La risposta può arrivare anche un po' dopo Quindi è tutto asimmetrico E questo complica parecchio l'utilizzo di questi moduli Quindi bisogna essere un po' attenti Qui in fondo vedete però La risposta è ricevuta e stampata Andiamo a vedere il codice Lo facciamo a livelli Quindi vi faccio vedere già il risultato finale Questo è il risultato finale Come vedete parto dalla base del terminale Che abbiamo realizzato nel video scorso Quindi software serial Diamo i PIN Abbiamo il modem Qui definisco delle funzioni Che poi ho implementato sotto Queste funzioni sono tre Allora una serve per mandare i comandi Al modem Ed è quella più facile Quindi basta mandare una stringa Qui vedete ci sono varie possibilità Adesso le andiamo a vedere Le altre due invece Al resp serve per leggere la risposta data dal modem E l'altra ancora Get page serve poi Per leggere definitivamente la pagina HTTP Che stiamo chiamando Il problema è questo Che quando io do un comando Il modem non sta in attesa Quindi devo bloccarmi Finché leggendo la seriale del modem Finché non ho un risultato A volte vengono date più risposte Quindi io potrei anche andare avanti Con lo sketch di Arduino E mi vedo arrivare dei caratteri Sulla seriale del modem Di cui non so che cosa farmi Quindi bisogna stare molto attenti Nella parte setup Troviamo le inizializzazioni Che abbiamo visto l'altra volta Vi consiglio di vedere il video precedente E qui utilizzando send command Do Passando la nostra seriale Il nostro modem come parametro Vedete tutti i comandi che do Per fare la chiamata A una pagina HTTP Questo modulo funziona solo con le HTTP Quindi HTTPS no Quindi do una T per verificare che funzioni Poi do tutta questa serie di comandi A T che servono per impostare la PN Per chiudere eventualmente la sessione dati Nel caso sia rimasta aperta Poi la apro Per essere sicuro di aprirla Inizializzo la sessione HTTP Do un identificativo Faccio il redir Così come abbiamo detto prima Specifico poi l'indirizzo da chiamare Faccio la chiamata E poi prendo il codice I dati contenuti nella pagina Con GET PAGE E alla fine termino tutto E qui scriviamo poi I dati ricevuti che li ho messi in una stringa Nel loop ho lasciato Queste istruzioni Perché così abbiamo sempre a disposizione il terminale Se vogliamo intervenire in qualche modo Dopo che è andato tutto Potrei toglierlo Perché praticamente ogni volta che chiamiamo questi SendCommand Abbiamo un while che ci blocca in attesa del risultato Andiamo a vedere il sendCommand SendCommand Ha parecchi parametri Usa un ciclo do while Perché fa più tentativi Quindi posso specificarlo come parametro Ho un parametro qua Tryon E' messo in default Se lo do Specifico il numero Altrimenti se lo ometto Prende 3 Che cosa fa? Prova a dare un comando Quindi SER Per noi è il modem Quindi faccio SER Println Scrivo il comando AT Che voglio inviare Se voglio mandare il comando Per esempio AT Semplicemente Il nostro sendCommand Cosa fa? Attende un secondo Qua possiamo anche toglierlo Per andare un pochino più veloce Qui ci stampa console da noi Il messaggio che stiamo dando Ma poi come vedete Faccio SER.println Cioè do il comando AT In questo caso Al modem E poi devo aspettare la risposta La risposta viene fatta Utilizzando il metodo RESP Che ha al suo interno Un ciclo Che va a leggere la seriale Finché non ottiene una risposta corretta Che può essere O l'ok Perché tutti i comandi AT Rispondono con ok Oppure un errore di qualche tipo E mi darà un risultato N Che sarà nel caso Dell'ok 1 Altrimenti Mi dà un valore diverso da 1 Io posso usare Questo N Per vedere Conteggiare i numeri di tentativi Quindi nel caso Il comando Non ha buon fine Provo In questo caso Tre volte Finché riusciamo a avere la risposta Perché ho messo questa cosa? Perché capita spesso Che Si inceppi Magari non mi risponde A volte i comandi Dati Nella sessione GSM Eccetera Sulla sessione dati Non vi risponde La rete magari non è disponibile Quindi è molto aleatoria In questo modo Facciamo tre prove Prima di procedere Quindi Abbiamo questi tre tentativi Alla fine Se vanno bene Oppure La prima volta Che riusciamo a avere Una risposta positiva Esco Quindi questo manda il comando Poi Qui dentro Abbiamo il resp Che fa l'altro lavoro Il resp L'ho preso da uno degli esempi dati Con la sim 808 E l'ho un po' sistemato Che cosa facciamo dentro resp? Ma gli passo un parametro Di default Che è la stringa Il messaggio Che mi aspetto di ricevere Sulla seriale Che è questo txt Uguale ok Quindi Quando io do un comando t Il modem risponderà sempre In qualche modo Alla fine Mi dai dei dati Ma alla fine termina con l'ok Quindi Io cerco sempre questo ok Come avviene la comunicazione? Avviene sempre Con dei caratteri Allora Ho creato un ciclo while Che gira per sempre Fino a che non trovo l'ok Quindi qui dentro Vado a vedere Se arrivano caratteri dal modem Li prendo E compongo Una stringa Una linea Come faccio a comporre una linea? Ho creato qui sopra Una stringa Chiamata line E questi caratteri Possono essere di tre tipi O sono Slash n Slash r O un carattere qualsiasi Allora Se ho un carattere qualsiasi Lo vedete qua Lo vado ad aggiungere Quindi lo vado ad aggiungere a line Se ho lo slash r Non faccio nulla Altrimenti Se ho lo slash n Vuol dire che la riga è finita Quando ho composto la riga Posso esaminare il contenuto di line E decidere cosa fare Qua vado a vedere Se la riga contiene il testo specificato Quindi se chiamo rest senza parametri Lei cerca ok Quindi se vedo ok dentro la linea Ho finito Metto n uguale a 1 Faccio break In questo modo usciamo da questo while Altrimenti Vado a vedere se ho errore Se trovo errore Vuol dire che è andato male qualcosa Devo comunque uscire Posso uscire Mettendo n uguale a meno 1 N uguale a meno 1 E' quello che poi restituisco Qui c'è anche row Ma row non viene utilizzata Quindi potete Possiamo anche cancellarlo Quindi questo qui è quello È il cuore del nostro Meccanismo Per comunicare con il modem GSM In modo più o meno sicuro Abbiamo poi l'ultimo problema Che è la lettura della pagina Quindi se è chiaro come funziona Quindi questa send command Potete prenderla pari pari Usarla per mandare i comandi Che vi servono Uno dopo l'altro Gestirà lei in automatico La risposta o l'errore Alla fine abbiamo La richiesta della pagina Qui non posso farlo Con la send command Perché è più complessa Quindi ho creato un metodo Get page Che abbiamo qua Get page Legge il contenuto Dato dalla pagina E lo mette dentro page Andiamo a vedere come funziona Ecco qua get page Get page Nasce dalla Resp Quindi è simile Come funzionamento Ho un ciclo While Questa volta La condizione È gestita Da una variabile booleana Chiamata loop Dentro la get page Do il comando Che fa partire La lettura dei dati Questo comando È Att plus http Http read Dando questo comando Iniziano ad arrivare I byte Che il modem Ha intanto scaricato La lettura viene sempre Nello stesso modo Quindi dalla seriale Questa serve sarebbe poi Il modem Che io passo come parametro Qua passato come stream Perché il modem È un oggetto stream Cioè stream è Come dire Qualcosa di più ampio Che racchiude Tutti i tipi di Trasmettitori seriali Se il mio modem Ha dei caratteri Leggo uno per volta E con la solita struttura Con Slash r Slash n O Qualsiasi altro carattere Vado a comporre la linea Qua Per evitare tre rami Ho Semplicemente diviso In questo modo Se mi arriva Slash n Vuol dire che la riga È finita Altrimenti Qualsiasi altra cosa Diverso da Slash r Lo vado ad appiccicare Dentro line È analogo a quello Che abbiamo visto prima Una volta composta La riga La esamino Qui Ho uno switch Perché La lettura della pagina È un pochino più complessa Dobbiamo gestirla a stati Inizio Nel case 0 Quindi qua Devo andare a cercare Più HTTP read Due punti Questa è la risposta Che mi dà Il mio modem Quando stanno per arrivare i dati Se mi risponde così Mi dirà anche Quanti sono i bytes Che ne arrivano Non ci interessano Le prendiamo tutti Però devo andare a intercettare Questa cosa qua Lo faccio con index off Quindi se line Contiene questa cosa qua Vuol dire che stanno per arrivare i dati Allora vado allo stato successivo Mi metto ST page 1 Sono qui dentro A questo punto Ho la pagina Nel mio caso era facile Perché era una sola riga Quindi prendo Dentro page E vado a mettere line Qui ho messo Semplicemente uguale Ma forse sarebbe meglio Fare più uguale La pagina La pagina che vado a leggere Io ha una riga sola Perché è un servizio Quindi mi dà Una semplice descrizione Quindi la vado a mettere Dentro la stringa page E la restituisco Per restituirla Metto st page Uguale 2 Quindi procedo Sullo stato successivo Dove attendo L'ok Se mi arriva l'ok Ho terminato Metto loop false E posso restituire Page Che sono andato a costruire Nel caso avessimo Più linee Conviene modificare Il codice Che avevo preparato Allora vado a chiamare la pagina Hello world Che c'è una scritta testuale E quindi occupa più righe Devo modificare Il codice Della nostra get page Che trovate qua Allora basterà Fare questa modifica Vado a copiarmi questo if Quindi nel case 1 Io dentro Devo analizzare line Quindi vado a vedere line Se line contiene ok Vuol dire che ho finito Quindi posso dare loop Uguale false E a questo punto Interrompere l'esecuzione Altrimenti Andremo a comporre La nostra pagina Facendo page Più uguale La linea E poi gli aggiungiamo Anche un carattere Per farlo andare a capo Quindi slash n St page Lo possiamo togliere E posso anche eliminare Il case 2 Perché non serve più Quindi in questo modo Riusciamo anche a leggere Pagine Che hanno più di una riga Facciamo la verifica Poi lo carichiamo Per questa volta Ho preferito Non scrivere il codice Da zero Perché è molto complicato E ci vorrebbero Veramente delle ore Quindi Ve lo trovate Nel repository github Cercate il progetto 661 Analizzatelo con calma E se potete utilizzarlo Poi modificando La sequenza delle chiamate A t per andare A fare le vostre chiamate Adesso Ha terminato il caricamento Apriamo il serial monitor Vediamo cosa succede Mi sta facendo Mi sta facendo le varie chiamate Questa volta Chiameremo Hello world Sempre sul mio sito Ecco Lo vedete lì Fa la chiamata Attende la risposta Del server Si restituisce Come vedete Duecento Ed ecco qui Stampato il messaggio Hello world Della pagina Ovviamente non è allineato Perché il primo davanti Ci ha dato Due punti Però come vedete La cosa funziona Spero abbiate apprezzato Il lavoro eseguito Ci vuole un po' di pazienza Come vi ho detto Per seguire Lo sviluppo Quindi io non l'ho fatto da zero Perché mi sembrava Veramente un di più Quindi Prendetevi il vostro tempo Per digerirlo Comprenderlo E riutilizzarlo Ogni volta che vi serve Per oggi è tutto Spero sia stato chiaro Vi saluto Vi ringrazio Ci vediamo presto Ciao